1.800.000 euro, questo il valore della collezione Oro d'Autore che la Regione Toscana ha acquistato lo scorso 30 dicembre da Arezzo Fiere. La preziosa collezione comprende 300 gioielli in oro, tutti pezzi unici e non commerciabili. Io mi auguro che si possa, ne avevo già parlato con il Sindaco, rapidamente firmare un accordo di programma che preveda l'esposizione di questa straordinaria collezione d'oro che è artistico, di produzione artistica, di artigianali e artistiche che c'è qui a Arezzo perché io penso che un'esposizione di questo tipo con 300 pezzi possa interessare il mondo se sapremo organizzarla bene e se sapremo promuoverla. Questo ha lo scopo di valorizzare la tradizione orafa di questa realtà e quindi anche l'aspetto produttivo, di supportarlo con questo contesto di storia, d'arte e di bellezza e poi allo stesso tempo anche ha lo scopo di promuovere turismo in questa città. Mi auguro che si possa, quanto prima, ne avevo parlato con il Sindaco, raggiungere un accordo e stabilire un planning di lavoro. Abbiamo speso, spenderemo alla fine 2 milioni e 100 per rilevare questo importante patrimonio, l'oro di Arezzo, siamo disposti a spendere anche qualcosa in più per realizzare l'esposizione, purché si trovi un accordo con l'amministrazione. Quale potrebbe essere l'esposizione, la sede espositiva? Noi una volta avevamo pensato, c'erano stati già finanziamenti regionali per la fraternita, dove già una parte di questo patrimonio viene esposta. Io non conosco puntualmente la realtà di Arezzo, ma quella mi sembra la sede più adatta. Poi se ci sono altre proposte ben venga. Della collezione Oro d'Autore, nata nel 1987 per promuovere il gioiello Made in Italy, fanno parte gioielli realizzati da artisti di primo piano, con aziende orafe tra le più grandi sul piano nazionale. La collezione è stata spesso ospite anche di fiere all'estero, da Tokyo a Hong Kong, da Las Vegas a Buenos Aires e New York.